In questo cantiere, in occasione di scavi archeologici preventivi all'edificazione di un progetto edilizio che è previsto in Zonar, è venuta alla luce una piccola area di necropoli, nell'ambito della quale sono emesse tre tombe. Una di queste è pertinente a una sepoltura infantile, mentre le altre due, a giudicare dalle dimensioni, sono delle tombe di un adulto, di una persona adulta. Dai materiali di corredo che abbiamo recuperato dalla tomba di infante, si può al momento ipotizzare una datazione tra la fine del V e i primi decenni del IV secolo a.C. Però i materiali sono ancora sporchi e quindi dovrebbero essere lavati, restaurati e studiati. Le altre due tombe sono ancora in fase di scavo. La responsabile del cantiere è la collega, dottoressa Angela Ciancio, momentaneamente assente. Io sostituisco la collega in questa giornata, in questa fase. Prego. Dopo portano tutto nella sede della sovrintendente. è trattato anche a Gioia, dove viene studiato, catalogato e speriamo che prima o poi possa essere ospitato tutto questo patrimonio all'interno del museo archeologico che stiamo a profondo appunto su quello che stiamo, dentro San Benedetto. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.